Anche il bitcoin cade vittima della proposta di Biden di raddoppiare le tasse sulle plusvalenze. Questo oggi sarà il classico esempio di food, paura, incertezza e dubbio, che ogni tanto arriva e ovviamente è più preponderante, è un fattore molto molto consistente e frequente quando ci si trova in un mercato ribassista, quindi un bear market, e un po' meno quando ci troviamo in un bull market, ma avviene anche durante un bull market. E soprattutto coloro condizionati da questo tipo di paura sono le stesse persone che vengono attratte in una fase iniziale da una FOMO, ossia una fear of missing out, una paura di rimanere fuori da un mercato che sale. In generale ogni tipo di mercato ha un trend rialzista e un trend ribassista e ora stiamo vivendo un forte trend rialzista nel mercato delle cripto. Il problema, lo metto tra virgolette, del mercato cripto è che tutto va molto molto veloce, abbiamo avuto un rialzo delle percentuali molto importanti verso l'alto, in pochissimo tempo sullo stesso Bitcoin abbiamo visto comunque arrivare il prezzo da una cifra che solo un anno fa valeva meno di 10.000 dollari, adesso ha un equivalente attorno ai 48.000. E in generale comunque anche negli ultimi tre mesi un rialzo che ci ha portato da 30.000 a 48.000 è un rialzo che non si vede in nessun altro mercato. Questo ci abitua a una velocità molto elevata, attira persone per la crescita del prezzo e queste persone comunque come detto vengono attirate da una fear of missing out, da una FOMO. Allo stesso tempo sono molto soggette da una paura in certezza e dubbio quando c'è una correzione e le correzioni avvengono, sono indispensabili anche in un mercato rialzista e questo è tuttora un mercato a rialzo nonostante adesso stiamo vedendo una bella correzione. Anche nel 2017 ci sono stati momenti con delle correzioni importanti, vi faccio vedere ad esempio la corsa che c'era stata fino a metà anno agosto del 2017 dove da meno di 1000 dollari si era passati appunto a 4.600 dollari, cioè aveva fatto un 4 per il prezzo intero come se inizia l'anno con 20.000 dollari e si arriva già a metà anno a 80.000 dollari. Siamo più o meno è questo l'equivalente e poi si era scesi fino a 3.200 dollari come se da 80.000 tornasse a 60.000 e un po' queste correzioni sono diciamo caratteristiche di questo mercato molto volatile e in price discovery. Ma adesso cerchiamo di capire quello che sta succedendo partendo dall'analisi fondamentale, passando analisi tecnica e analisi on chain. Oggi il quadro è abbastanza negativo e dobbiamo prenderlo per com'è. Tra l'altro voglio farvi notare come questa volta sto prendendo una notizia dalla Repubblica, quindi un articolo scritto sul reparto economico, e solitamente tendono a scrivere di più quando c'è da parlare male o comunque quando c'è da fare della paura, del terrorismo, perché comunque sia tendenzialmente la maggior parte degli articoli scritti da media tradizionali avvengono in fase di fomo molto elevata o di food molto elevata. Difficilmente si fanno analisi fatte bene, tecniche, in momenti diciamo tra virgolette di noia, magari si tende a parlare di altro. Questo è un mio piccolo sfogo. Però detto ciò, cosa sta succedendo a livello dell'analisi fondamentale? E diciamo è un po' magari la miccia che ha scatenato questo effetto, che poi tra l'altro è stato già alimentato da un food proveniente dall'ash rate che abbiamo visto a inizio settimana, con un calo drastico della potenza di calcolo. Qui arriva una proposta dal presidente degli Stati Uniti per aumentare l'aliquota sul capital gain, cioè aumentare la tassazione sulla plus valenza, che vorrebbe essere portata dall'attuale 23,8%, ricordiamo che in Italia è il 26%, e potrebbe alzarsi fino al 43,4%, quindi una percentuale veramente quasi del doppio. Questo che cosa comporta? Che farà scrollare di dosso a Bitcoin tutti coloro, tutti quegli holder, diciamo quei acquirenti, quegli investitori, detentori di Bitcoin dalle mani deboli. Perché chi è entrato su Bitcoin per avere un profitto di breve periodo, vedendo una potenziale minaccia di tassazione di questo tipo, magari preferisce liberarsene, fare profitto adesso che Bitcoin è alto, considerato da loro magari un livello molto alto, per non incappare in una tassazione più elevata in futuro, discorso che ci sta. Questo ovviamente, non sto giudicando chi fa questo tipo di operazione, è una cosa logica, e mi fa pensare però che chi vende per questa ragione, o comunque viene spaventato da questi motivi, non è su Bitcoin, perché ha capito cos'è Bitcoin, ma tendenzialmente ragiona molto in dollari, e ovviamente dei nuovi entrati, ce ne sono molti che ragionano prevalentemente in dollari, e vedono Bitcoin come pura speculazione, che è la maggior parte, diciamo, è il motivo predominante per cui Bitcoin è salito comunque tanto e molto velocemente. Andando su CoinMarketCap, vediamo che la capitalizzazione totale del mercato è scesa sotto i 2 miliardi, abbondantemente, la dominance paradossalmente è salita, perché comunque quando il mercato cripto scende, scende maggiormente sulle altcoin, e come le altcoin magari in alcuni momenti, soprattutto durante un bull market, hanno dei gain magari superiori a Bitcoin, nel momento di ribasso hanno delle perdite superiori a Bitcoin. Questo ce lo può far vedere, si può vedere su diversi alcoin, se andiamo più bassi in capitalizzazione vediamo perdite superiori al 20%, in molti casi, mentre Bitcoin nell'ultima 24 ore perde un 9%. Detto ciò, passiamo all'analisi tecnica, vediamo cosa sta succedendo a livello di analisi tecnica, perché qui adesso lo scenario un pochino cambia, sempre rimanendo molto molto semplici, qui sto disegnando e ho disegnato solamente supporti e resistenze. Questo che era un bel supporto, ovviamente da ritestare, perché in realtà era stato a malapena testato una volta, è stato al momento rotto, questo è il supporto ai 50 mila dollari, che al momento diventerà una nuova resistenza, tornerà ad esserlo, tornerà ad essere una resistenza. In realtà dovremo vedere come chiuderà la candela giornaliera, perché qui sono Bitcoin dollaro, Bitcoin USD, su Coinbase con candele giornaliere. Questo è, diciamo, l'assetto grafico che mi piace osservare. E la media mobile a 50, che spesso aveva sostenuto il prezzo dell'asset, questa volta ha dato già un primo segnale di possibile trend ribassista, quantomeno sul breve termine, perché dopo aver resistito il 18 aprile, il prezzo si era portato, il prezzo di Bitcoin, sotto a questa media, questa che è la media semplice del prezzo degli ultimi 50 giorni. E il prezzo aveva iniziato a muoversi sotto, trovando una resistenza verso l'alto della media stessa, provata a rompere ben tre volte, non ci è riuscito e a quel punto abbiamo cominciato a vedere un calo, che addirittura è andato oltre, ha rotto un altro supporto, che è quello a 49.000, a questo punto si è fermato qui a 47.400, dove non c'è un reale supporto. Potremmo andare a individuarne uno, ma molto molto lieve su questo livello in effetti, perché vediamo che in effetti qui c'era stato un certo tipo di supporto anche in passato, quindi effettivamente questo potrebbe essere identificato, questo livello, come un ulteriore supporto, ma se devo dirvi la mia, è molto molto leggero, il prossimo supporto che dobbiamo osservare a livello di analisi tecnica è 42.000 dollari, questo qui è più forte in quanto è stato per un periodo il massimo che si è raggiunto, specialmente a inizio anno, con una sorta di resistenza, quindi questo ai 42.000 è il prossimo livello che potremmo vedere, e qui non ci sarebbe da spaventarsi se bitcoin scendesse fino a 42.000 dollari, anche perché dobbiamo mettere sempre tutto in un'ottica un pochino più allargata, io vi farei vedere anche lo stesso grafico settimanale, e vi farei vedere che è relativamente poche settimane che siamo in una fascia così alta, e la fascia diciamo dai 40 ai 50 è stata saltata completamente, con una candela prepotente del bensì di febbraio, e poi si è passati su un livello superiore. Queste crescite qui tendenzialmente vengono sempre ritestate in qualche modo, prima o poi, anche perché spesso, come vi ho detto, sempre rimanendo in analisi tecnica, quelle che sono le medie, tendenzialmente, prima o poi, tendono ad avvicinarsi al prezzo, e questo avviene in due modi, o il prezzo rallenta nella sua crescita per un tempo necessario alla media di alzarsi ed avvicinarsi, oppure tutto insieme il prezzo scende e ci si avvicina, questa media a 200 andando ad allargare. Adesso qui con tutte le linee che ho tracciato nei vari anni, nel tempo di supporti e resistenze, un po' il grafico viene compromesso qui per la sua leggibilità, ma vediamo che la media a 200 anche in periodi importanti, come ad esempio quello del 2017, è stata inizialmente molto molto vicina al prezzo, si è discostata nella fase di bull run e di bull market in pieno hype e anche in piena bolla, poi pian piano il prezzo è tornato sui suoi livelli, addirittura poi rincrociando, questo solitamente quando il prezzo incrocia la media a 200 inizia un trend ribassista forte, un altro segnale potrebbe essere quello di vedere quando incrocia la media a 50, quella un pochino più veloce, quella a 200, ecco questi sono segnali di analisi tecnica che ci fanno vedere un cambiamento di trend. Questo ancora è molto molto lontano dal vedersi, il prezzo è molto lontano da quella che è la media a 200 e la media a 50 è lontanissima, quindi ancora il trend è da analisi tecnica rialzista, però abbiamo rotto alcuni supporti e quindi potremo vedere ancora dei ribassi e magari il prezzo potrebbe tornare nuovamente dentro una fascia di ranging che va dai 42.000 ai 50.000. Io mi potrei aspettare questa cosa qui e non mi stupirei né preoccuperei, anche perché Bitcoin questa fascia qui praticamente l'ha sorvolata quasi del tutto e non è un bene per la duratura di un bull market. Se vogliamo che questo mercato rialzista sia sostenibile per un periodo un po' più lungo, dobbiamo augurarci che alcune cose succedano, piuttosto che vedere uno spike insostenibile che porta a una bolla, anche perché queste crescite attirano solamente persone che comunque vogliono fare profitto in poco tempo, vedono la FOMO, hanno paura di rimanere fuori da questo mercato, alla prima notizia negativa portano tutto su exchange e vendono. E questo ve lo farò vedere perché effettivamente sono tornati ad aumentare i depositi sui exchange, lo vediamo dai dati on-chain. Un altro fattore importante che dobbiamo osservare è quello del mercato delle opzioni. Intanto guardiamo questa notizia, appena il prezzo scende torna un pochino di food anche a livello mediatico, voglio farvi vedere anche dai dati on-chain il sentiment sui media, possiamo vedere sempre tramite uno strumento che è into the block, e in effetti personaggi famosi come Peter Schiff, che è sostenitore dell'oro e gioca molto sul fatto di supportare l'oro e attaccare bitcoin, va a twittare. Adesso che bitcoin è tornato sotto i 50.000 dollari, penso che è il momento per Anthony Pompliano di twittare ogni 1.000 dollari di milestone verso il ribasso, come è fatto verso il rialzo. Pompliano ovviamente risponde alla provocazione dicendogli bitcoin è più alto del 600% rispetto all'anno scorso, l'oro è più alto del 3% rispetto all'anno scorso, quindi è meglio che non twitti più finché l'oro non riesce a sconfiggere l'inflazione Peter, quindi risponde a tono. Poi c'è un altro user di Twitter, Fintweet, che risponde l'oro è più alto dello 0% dal 2011, ossia da quando bitcoin effettivamente ha un suo mercato. Inizia insomma a farsi sentire la voce di chi attacca bitcoin, questi sono aspetti importanti perché vanno ad influire sull'umore generale del mercato. Ricordiamoci sempre che il mercato, soprattutto questo, è molto emotivo e il sentimento che si percepisce va a condizionare i vari trend. Abbiamo visto come nel bear market il pessimismo faceva vedere tutto negativo e nessuno voleva avvicinarsi a bitcoin, c'è voluto molto tempo per ricostruire una credibilità, ricostruire una positività e poi diciamo si aggiungono tutti dopo, salgono tutti sul carro quando le cose cominciano subito ad andare bene e qui qualcuno comincia a spararla diciamo negativa. Un'analisi un pochino più dettagliata sulla situazione potrebbe anche essere quella legata alle opzioni, quindi al mercato delle opzioni, dei derivati, e ci dà una motivazione per cui tutti coloro che hanno visione rialzista o comunque i holder di lungo periodo non stanno accumulando in questa fase, prevalentemente perché c'è un grande accumulo di opzioni in scadenza proprio questo venerdì, il 23 aprile, che ammontano a 1 miliardo e 55 milioni di dollari in opzioni e sembrerebbe che appunto chi ha una visione ribassista, i orsi, hanno un vantaggio di 340 milioni di dollari se il prezzo rimane sotto ai 57 mila dollari. Ve la potrei spiegare in modo molto più dettagliato, però prendiamola così. Nel bilancio complessivo il mercato ha un vantaggio maggiore se il prezzo rimane sotto ai 57 mila dollari. Vedendo questi dati, anche chi vuole comprare aspetta perché? Perché ha paura di andare contro un trend di breve periodo e quindi magari aspetta che queste opzioni scadano per poi fare ricostruire le sue posizioni, anzi magari approfittando anche di un eventuale ribasso. Quindi quello che potremo vedere tendenzialmente da questo tipo di analisi è una scadenza delle opzioni che porta il prezzo verso il basso. Se la paura non è diventata troppa, a quel punto anche una ricostruzione, magari anche a partire dal weekend. Ma questo non è detto perché dipende molto da questi effetti che si stanno scatenando e quanta paura si andrà a creare sul mercato. A questo punto abbiamo uno strumento che è il Fear and Greed Index, l'indice sulla paura e sull'avidità, che si è portato su una lettura neutra. Al momento la avidità è al livello 55. Se si sposta verso il rosso siamo in fase di paura, verso il verde in fase di avidità. Quando il prezzo era verso questi livelli, quindi verso i 48-50 mila dollari a inizio anno, ci trovavamo in avidità estrema su livelli sopra i 90-93. Questo per me è un fattore bullish, perché se oggi, a distanza solo di 3-4 mesi, un prezzo di 48 mila dollari è percepito con una bassa avidità, quindi con una percezione neutra quasi verso la paura, vuol dire che Bitcoin ha cominciato ad essere, è percepito praticamente su livelli di prezzo molto molto alti e questo lo potrà confermare chiunque è qui da più di 6 mesi. Perché se siamo qui da più di 6 mesi, abbiamo conosciuto Bitcoin quanto meno sui 10 mila dollari, vederlo a 48 mila e vedere che c'è qualcuno che ha paura per un prezzo di 40 mila dollari, magari potenziale, fa sorridere, perché 40 mila dollari per un singolo Bitcoin è veramente un prezzo molto molto elevato. Come funziona questo grafico? Ce lo dice questa leggenda. Quando c'è una paura estrema, quindi quando si va verso il rosso, verso paura, potrebbe voler dire che gli investitori sono troppo preoccupati e quindi potrebbe essere una buying opportunity, potrebbe essere un motivo di acquisto. Quando gli investitori invece sono troppo greedy, quindi l'indicatore va verso il verde, la lancetta va verso il verde, questo può voler dire che il mercato è pronto per un'eventuale correzione. Siamo stati spesso verso quella direzione, verso il verde, e il mercato non aveva ancora mai corretto per bene. Quindi, a mio modo di vedere, è buono che lo faccia, altrimenti la bolla è ormai delineata e si stava creando troppa fomo, soprattutto su monete low cap, quindi dalla piccola capitalizzazione, fenomeno molto preoccupante, perché se quella cosa avesse continuato ad accelerare questi ritmi, probabilmente si sarebbe andati verso la fine del trend, a quel punto il capovolgimento del trend sarebbe stato definitivo. Mentre invece una correzione per me è ben auspicabile. Andiamo a vedere i dati on-chain in chiusura di questa mia analisi. Voglio farvi vedere, visto che ci siamo subito, quello che è l'aspetto social per poi passare ai dati legati ai bilanci sui exchange. L'aspetto social, qui vi sto facendo vedere into the block, e ricordo che per avere queste analisi c'è bisogno di un abbonamento che costa pochissimo, perché è un abbonamento da 10 dollari al mese, addirittura in un anno costa anche meno. Trovate il link di riferimento in descrizione se siete interessati a determinate analisi. Adesso vi faccio vedere qualcosa. Io qui ho selezionato Bitcoin, come vi ho fatto vedere è quello da dover andare a visionare, se vogliamo capire qual è il trend di mercato. Non conta la singola altcoin. Questo capitalizza più del 50% del mercato, quindi facciamoci furbi. E condiziona gli andamenti e l'umore del mercato. Anzi, vorrei anche farvi tornare alla prima notizia. Anche il Bitcoin cade vittima della proposta di Biden, non si parla di altcoin. I media, il mondo conosce Bitcoin. Quindi tutti gli indicatori danno un fattore bearish, ovviamente il prezzo è sceso molto. Come vediamo qui, i social hanno iniziato a dubitare del momento, c'è anche chi scrive che il bull market sia finito. Dalle analisi che vi sto facendo vedere, a mio modo di vedere, né da analisi tecnica, né da, tantomeno da analisi fondamentale, né come vi farò vedere adesso, da analisi on-chain, c'è un chiaro segnale di una fine di un bull market. Ma negli ultimi sette giorni i messaggi, qui prendiamo i social ad esempio su Telegram, che è un social molto forte per il settore, si sono portati su un'area negativa, tendenzialmente, su un'area neutra scusate, tendenzialmente neutra, sono aumentati quelli di natura negativa. Come si fa ad interpretare? Praticamente qui c'è un algoritmo di machine learning che determina se il modo di scrivere su Telegram e i messaggi che arrivano in generale su Telegram e legati ai gruppi del mondo cripto hanno un'accezione positiva, negativa o neutrale, o una connotazione di questo tipo. Ancora si rimane molto positivi, d'altronde la crescita, soprattutto sull'alcoin, è stata notevole, quindi parecchi hanno un entusiasmo abbastanza consistente, infatti nel bilancio, se dovessimo escludere i pareri neutrali, siamo ancora su un aspetto positivo. Però sono aumentati molto i messaggi neutrali ed è importante capire il sentiment, perché in un bear market il sentiment passa come equilibrio, tutto a negativo, lo abbiamo visto, l'ho visto, ve lo racconto io in prima persona. Qui, negli ultimi sette giorni, ancora i tweet, qui il Twitter è un altro social molto molto importante, anche per rispondere alla domanda quali sono i social da seguire in questo settore, ecco, i social da seguire in questo settore sono questi, questi che vi sto facendo vedere adesso. Molto molto positivi i tweet, pochi ancora negativi, molti sono neutrali. Questo è il trend di ricerca, come sale, specialmente legato a Google Trends, e le parole che vengono ricercate, è molto interessante questo aspetto. Nell'ultima giornata, vediamo che le parole che sono state più ricercate sono network, ETH, perché è salito molto nel giorno di ieri, Binance, Smart, queste sono le parole più ricercate. C'è stato poi il food sui rapporti energetici, vedete qualche giorno fa la parola energy è stata aspiccata nel settore come parola mining. Molto molto interessante questo tipo di analisi. Passo direttamente a farvi vedere sui exchange cosa sta succedendo, qui abbiamo un dato che devo dirvi oggi è abbastanza negativo lato on-chain, perché guardando i flussi sono aumentati gli inflow sugli exchange. Che cosa vuol dire? Che parecchi hanno iniziato a depositare bitcoin su exchange. Qui abbiamo tutti gli aggregati di questi exchange, quindi Binance, Coinbase, Wobby, Kraken, Gemini, OkExchange, Bitstamp, Bitfinex, Poloniex e L1, e vediamo che sono aumentati i depositi di bitcoin su tutti gli exchange, già dalla giornata di ieri, 55.740 BTC sono stati depositati contro l'outflow, cioè quelli che ne sono usciti, che erano 35.000 e qualcosa. Quindi in generale la tendenza è stata quella di aumentare i depositi, i quantitativi di bitcoin depositati negli exchange. E lo vediamo anche nel cambiamento degli ultimi giorni. Ne sono stati depositati 27% solo nell'ultima 24 ore, quindi va a condizionare il paricchio quella che è la media degli ultimi 30 giorni, rispetto a una fuoriscita del 10%, quindi insomma bitcoin sono negli ultimi, cioè da ieri a oggi hanno iniziato a tornare sui depositi degli exchange e quando bitcoin entra sui exchange è per vendere, c'è poco da fare. Lo vediamo anche da qui, il trend è diventato più 20.000 100, più 20.000 BTC. Negli ultimi 24 ore più 16.000 e qui la media è condizionata negli ultimi 7 giorni prevalentemente dagli ultimi 2 giorni e anche quella degli ultimi 30 giorni, vediamo che è quasi uguale a quella di oggi. Nell'ultimo giorno sono stati depositati quasi tutti i bitcoin del mese. Aspetto negativo, ovviamente, questo di natura negativa perché probabilmente affetti dalla notizia e chi ha fatto profitto non vuole rischiare di pagare il 43% di tasse e magari negli Stati Uniti, questo vi sto parlando degli Stati Uniti, ha deciso di fare profitto adesso pagando il 23. qualcosa per cento. 23.8 anche perché siamo vicini appunto alla dichiarazione a una fase in cui bisogna fare questi calcoli di natura fiscale. Insomma, vi ho messo insieme un po' tutti gli aspetti di natura sia fondamentale che tecnica, questo è il quadro della situazione e spero di avervi dato una delucidazione, intanto qui se dovessimo andare a vedere proprio questo momento che conta fino a un certo punto sembrerebbe quasi che nell'ultima ora ci sia un tentativo di riassaltare i 50.000 dollari, non so come andrà sinceramente è quasi impossibile prevederlo. Qual è il vostro umore dopo queste analisi? Se vi devo dire la mia io ragiono ormai da tempo in questo modo spero che nel tempo possiate anche voi acquisire questo tipo di confidenza. Se sono su Bitcoin dopo tanto tempo e ho resistito a un bear market è perché Bitcoin ha una natura diversa rispetto al dollaro. Ragionare in dollari è un discorso che ho lasciato un po' alle spalle. Ovviamente bisogna avere il punto di riferimento con un equivalente in fiat è anche il motivo per cui questa rete Bitcoin viene sempre più adottata è l'attrattiva principale che ha questo asset il suo innalzarsi nel prezzo ma dobbiamo ricordare che è appunto in price discovery è un qualcosa che comunque è alternativo alla struttura economica attuale nasce proprio per questo motivo perché quella attuale non è sostenibile detto ciò un Bitcoin è sempre un Bitcoin di massimo 21 milioni mentre invece i dollari chi lo sa quanti potranno mai essere. Capisco però benissimo chi invece è entrato da poco vede questa come un'occasione di investimento molto interessante e quindi è allo stesso tempo affetto dai cambiamenti così repentini lo capisco bene e l'unica soluzione a questo problema è praticamente fare esperienza in questo settore come detto sempre investire solo quello che ci si può permettere di perdere così che anche se Bitcoin dovesse andare a zero che è una probabilità non nulla in questo settore non si è rischiato nulla e la nostra vita non viene impattata in modo negativo mentre invece se il prezzo di Bitcoin dovesse continuare a salire negli anni a venire beh magari l'impatto potrebbe avere un esito positivo tutto ciò non è un consiglio per investimenti ma una esposizione di analisi abbastanza oggettiva a parte quest'ultima parte su quello che sta succedendo vediamo come andrà questo fine settimana la scadenza delle opzioni questo weekend e anzi ne approfitto per darvi buon weekend a tutti ci vediamo lunedì per il Crypto Monday 10 11 12 12 12